Vediamo oggi un registro, il 74HC164, un registro a scorrimento, quindi un'altra categoria di dispositivi utilizzati anche con i microcontrollori per aumentare ingressi e uscite. Questo qua in particolare è un SIPO, quindi ingresso seriale e uscite parallele, quindi entrano dei dati e accende più linee parallele, utile per aumentare le uscite. Iniziamo subito. Oggi vediamo come utilizzare un registro a scorrimento, quindi uno Shift Register, che è una classe di dispositivi molto utilizzati in elettronica, quindi sono veramente onnipresenti. Questo Shift Register ha una batteria interna di cellette di memoria che possiamo usare per trasferire i dati in vari modi. In particolare questo qua che vediamo oggi è un SIPO, il chip che andremo ad utilizzare è il 74HC164. Come è fatto questo chip? Ha un ingresso seriale, quindi qua entrano i dati, il serial in. Abbiamo un clock che fornisce una temporizzazione. Questi dati vengono fatti entrare e memorizzati nelle varie cellette e poi possono essere presentati alle uscite, che sono in questo caso 8. Può essere utile per magari andare a pilotare più uscite utilizzando una sola linea di ingresso, quindi una sola linea dati. Andremo a costruire un piccolo circuito dimostrativo. Questo qui è il datasheet del nostro chip, l'SNSHC164, registro a 8 bit con uscita parallela e ingresso seriale. I registri e scorrimento sono veramente molto utilizzati in elettronica anche ai tempi dei microcontrollori, quindi fa molto comodo per magari moltiplicare ingressi o uscite in modo semplice. Questa qui è la sua struttura. Vedete che abbiamo qui sotto le uscite prese dai vari singoli flip flop interni che sono di tipo D se non sbaglio. Questo è il clock che viene fornito. Qui abbiamo un clear che serve per ripulire tutti i flip flop in un colpo solo. Viene fatto di solito l'accensione quando vogliamo ripulire il tutto. E qui abbiamo un doppio ingresso IB collegato a una NAND. Solitamente o li colleghiamo tutti e due insieme oppure uno lo colleghiamo a ground e l'altro 5 volt. Insomma ne usiamo uno solo di questi due ingressi. Potete dare un occhio al datasheet, anzi caldamente consigliato, per vedere come funziona. Ho uno per la piedinatura che trovate qui e poi l'altra cosa interessante è se voi lo scorrete trovate anche o una tabella della verità oppure vi fanno uno schemino con i segnali in modo che potete capire come dovete impostare i vari pin per farlo funzionare. Quindi qui vediamo che il clear deve essere sempre tenuto alto quando va basso resettiamo. Qui abbiamo il segnale di ingresso A vedete che viene applicato mentre B viene tenuto alto. Il clock procede e qua le uscite vedete che si spostano quindi scorrono verso l'esterno. Allora andiamo a vedere come realizzare un circuito con questo nostro chip. È un chip a 14 pin quindi un 7 più 7 riusciamo a farlo stare qua questo è il nostro 74 164 l'ho messo all'HC colleghiamo subito l'alimentazione pin 7 e dall'altra parte 14 lo alimentiamo con i classici 5 volt abbiamo ben 8 uscite segnate con delle lettere A, B, C, D, E, F, G e H nel nostro circuito andremo a collegare resistenza e classico LED a piacere questo è il ground resistenza ho messo da 3,90 replicate per 8 volte adesso vi segno anche il numero dei pin quindi abbiamo 3, 4, 5, 6 sono stati messi in modo un pochino più razionale del solito e questi altri 10, 11, 12 e 13 sono almeno in fila più o meno in fila abbiamo poi il nostro clock che arriva sul pin 8 quindi questo qua è il nostro clock d'ingresso CK vedremo come fornire questo segnale poi abbiamo il clear su 9 C, L, R qua usiamo il solito sistema quindi resistenza di pull up 10K condensatorino da 10 nF e lo porto al pin in modo che all'accensione gli do un colpo negativo resetto tutto e ho una situazione pulita poi abbiamo i due ingressi che troviamo sui pin 1 e 2 questi fanno a capo con la porta NAND qua possiamo far così li possiamo collegare insieme e qui faremo entrare il nostro dato useremo un pulsante per questo esperimento che andremo a realizzare quindi pulsante con resistenza di pull down 10K va bene perché è un HC lo premo quindi diamo un impulso e vediamo poi i led che si accenderanno e che cosa produrranno il clock come lo generiamo? qua non entro nel dettaglio cioè non lo facciamo solo a Brebble su Brebble vedremo solo questo per ottenere il clock posso prendere per esempio un 40106 che è un chip che al suo interno ha degli invertitori a trigger di Smith prendo una di queste porte per esempio la prima sul pin 1 e 2 ricordatevi di alimentarlo se non sbaglio anche questo è 14 e 7 mettete una resistenza tra il pin 1 e 2 scegliete voi un valore se non sbaglio ho messo un 100k e poi collegate il pin 1 verso ground con un connessatore da 100 nF se non sbaglio questo vi produce un segnale di clock se fosse troppo veloce provate a aumentare la resistenza invece che 100k provate magari con un son 220 470 addirittura un mega e potete modificare quindi con facilità la frequenza di clock prodotta questo segnale lo vado a portare sul nostro pin 8 ci darà la temporizzazione per creare un circuito a mano che possiamo utilizzare su Brebble dimostrativo andiamo a aprire Tinkercad che useremo solo per provare a costruire il circuito quindi per vedere per spiegare come andare a realizzarlo poi sulla Brebble reale sospetto che su Tinkercad la 74-164 non ci sia vediamo 164 difatti non c'è abbastanza sfornito quindi prendo un chip qualsiasi a 14 pin mi serve solo per vedere i collegamenti per spiegarveli lo tengo un po' qua sulla sinistra il circuito di clock non ve lo vado a disegnare non lo realizzo lo realizzate voi a parte abbiamo già visto come farlo mi servirà allora un pulsante quindi lo preparo già qui con resistenza da 10k questo fornirà il segnale di ingresso dopo lo predisponiamo prima cosa da fare allora sistemiamo la Brebbord portando l'alimentazione anche sul rail inferiore con un jumper di colore rosso cerchiamo di essere ordinati anche qui anche in fase di disegno e facciamo lo stesso per il negativo quindi un jumper di colore nero in questo modo la nostra Brebbord è alimentata bene alimentiamo il chip quindi pin 7 mettiamo un negativo pin 14 al positivo e il chip è alimentato ora andiamo a collegare il nostro pulsantino il pulsantino va sui pin 1 e 2 li colleghiamo insieme con un jumper abbiamo visto che abbiamo realizzato una roba del genere dal nostro schema ha una resistenza di pull down ok quindi andiamo a mettere la resistenza di pull down qui sul tasto l'altra estremità del pulsante lo porto al positivo quindi mettiamo un rosso questo punto lo vado a portare allora al pin 1 del chip questo sarà il nostro segnale di ingresso abbiamo poi il circuito di reset lo realizziamo con resistenza da 10k e un condensatore resistenza 10k il condensatore io l'avevo messo da 10 nanofare tanto qua potete cambiare il valore ma non si vede visto che qui non ci sta poi io sulla Brebbord lo faccio comunque molto attaccato al pin lo spostiamo lo mettiamo lateralmente possiamo metterlo un po' dove vogliamo la resistenza è in pull up quindi vado a prendere la resistenza la mettiamo qui in fondo collegata al 5 volt questo qui è il nostro condensatore e poi l'altra estremità del condensatore lo portiamo a ground tenetevi sempre di fianco lo schema e andate magari con un evidenziatore a spuntare i collegamenti che avete effettuato il punto in comune quindi questo devo andare a portarlo sul pin 9 del mio registro quindi il pin 9 lo trovo qui in questa posizione qua questo qua è il nostro reset ora c'è la parte più complessa è quella di andare a ah beh sì abbiamo scusate il clock il clock è sul pin 8 ricordatevi di collegare il clock sul pin 8 quindi questo qua io non lo segno lo fate voi a parte quindi createvi il vostro generatore di clock lo collegate qui e poi avete tutta la parte con i led a parte con i led bisogna avere un po' di pazienza conviene prepararsi le resistenze io ne ho da 3,90 resistenza 3,90 e un led vedere se mi fa copiare tutti e due componenti due, tre, quattro, cinque, sei, sette e otto ne abbiamo un bel po' cerco di metterli in modo ordinato vediamo se metto resistenza qui quindi resistenza collegata a ground faccio il contrario del disegno poi abbiamo qua il catodo lo metto così e con un po' di ordine cerco di farlo stesso per tutte le altre qui mi capita ogni tre probabilmente non ci stiamo dovremmo forse stringere perché lo spazio è poco allora mi sposto già cercando di guadagnare più spazio possibile poi dovremmo far circolare un po' di jumperini anche sul circuito reale io poi l'ho realizzato andando a mettere due breadboard affiancati quindi i led li ho messi su una breadboard collegata a questa per avere il maggior ordine possibile ok sistemati i led ora provvediamo al cablaggio allora pin 3 sul primo sono in ordine quindi vedete 3, 4, 5, 6 ho il pin 3 questo devo portarlo su questo qua posso andarci diciamo direttamente faccio così poi questo qui è il 4 lo porto qui abbiamo il 5 arrivo qua questo è il nostro 6 devo farlo girare quindi faccio girare da sotto e lo porto qui occhio che siamo sulla parte inferiore della breadboard quindi devo fare poi dei jumperini che mi vanno a collegare questa fila con il led lo stesso per gli altri allora abbiamo 10, 11, 12, 13 ora pin 10 questo qua devo portarlo qui giriamo da fuori 10 ho lasciato tutti i colori verdi probabilmente sarebbe meglio cambiarli in modo che siano un pochino più distinguibili adesso ci perdo un attimo di tempo cambi i colori così che siano differenti sia un pochino più facile capire come girano le cose come vedete bisogna essere molto ordinati avere un po' di pazienza soprattutto sulla breadboard dove possono veramente capitare capitare di tutto quindi basta un jumperino una breadboard leggermente difettosa e il vostro circuito potrebbe non funzionare quindi ci vuole veramente poco questo qua il nostro circuito vi ricordo manca il clock da portare su questo pin andiamo a vedere se funziona qui lo vedete il nostro registro scorrimento circuito di reset la fila dei led che ho messo qua a cavallo sulla seconda breadboard e mi ero tenuto da parte il generatore di clock qua con il 40106 gli ho collegato anche un led per far vedere il clock visibile visibile se volete farlo anche voi per vedere il clock visibile potete collegare qua un led quindi questo qui lo mandate al vostro chip e qui resistenza e led collegato a ground resistenza 390 in modo che vedete proprio il clock lampeggiare bene premendo il tasto genereremo un segnale di ingresso vedremo poi la sequenza in uscita se lo tengo vedete premendo più volte oppure lo tengo premuto lo vediamo scorrere in uscita cosa succede se prendo l'uscita e la rimetto sull'ingresso guardate un po' il segnale che ho immesso continua a circolare quindi arriva sull'ultimo pin di uscita lo riporta all'ingresso e verrà reimmesso possiamo farlo girare continuamente dal punto di vista circuitale quello che avete visto è questa cosa qua io ho preso ve lo segno in verde l'ultimo pin e l'ho riportato qua sull'ingresso quindi sono andato a collegarlo con un jumper in questo modo così che l'ultima accensione quando arriva qua viene ributtata dentro bene per oggi è tutto avete visto come possiamo utilizzare questo tipo di chip possono essere tra l'altro anche inanellati uno con l'altro per creare magari strutture un pochino più complicate magari vedremo di fare qualcosa questi video sono solo per presentare il chip e quello che fa a livello base bene vi saluto vi ringrazio ci vediamo domani ciao